Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove si segnala un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 42-600, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno, in direzione Livorno. Sempre in FIPILI, per lavori sono possibili disagi tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est, in entrambe le direzioni. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo-Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita, provenendo da Livorno. Spostiamoci in A1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per lavori tra Fabro e Valdichiana. Sempre verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!